ciao a tutti e ben ritrovati allora quello che andiamo a commentare oggi è un vlog dalle tinte molto forti beh effettivamente l'arrivo di dennis per gli amici bonbon a milano ha scosso di molto la situazione e se ieri l'hanno portato in visita alla meno primark oggi hanno optato per fargli visitare i luoghi più malfamati della città e qui parte il nostro solito quizzone la domanda è cosa li ha portati a questa scelta opzione a l'astinenza dalle botte opzione b sentono la mancanza dell'energumeno incontrato all'outlet dolciario quale sarà la risposta giusta e chi può dirlo ma noi e ci basta solamente guardare il video che inizia con chiara seduta in auto che descrive uno stato d'animo non proprio sereno perché perché ben conscia del rischio che corrono ad adentrarsi in una zona così pericolosa zona in cui sono stati addirittura registrati pure degli episodi paranormali e allora non si doveva portare a dennis si doveva portare la damma nera ah no ma torniamo a chiara che sta a fare una sorta di intervista a dennis in pratica gli sta chiedendo se è spaventato e lui risponde di sì e lei lo rassicura dicendogli di non preoccuparsi perché c'è lei che lo protegge si è già scordata del volo che ha fatto tra gli scaffali incastrata tra gli è pippo e gli interbueno e segue tutta una serie di battute che onestamente non fanno ridere manco se mille persone ti stanno a fare il solletico e ci ritroviamo a bomba in quello che è il luogo dangerous allora vi descrivo quello che è il luogo ad alto rischio abbiamo un muro di cemento di colore grigio con varie tubature a vista e siccome le disgrazie non vengono mai sole abbiamo lei che si finge spaventata per delle ombre che appaiono sul muro e per dei rumori metallici che palesemente sono loro a farli sul pavimento una botola e pare che l'intenzione sia quella di entrarci oddio con tutta la buona volontà di questo mondo la vedo dura e poi la scena cambia ed ora ci troviamo all'esterno di qualche edificio e le spiega che sono lì perché sono venuti fuori da quella botola oddio a me sta cosa mi sembra una grande stronzata però per contratto devo dire che è un qualcosa di molto impressionante poi comunque c'è un lungo preambolo sul fatto che le scene che seguiranno non sono adatte a tutti quindi sono escluse le persone deboli di cuore dura un bel po di minuti sta sta cazzata e poi inquadra l'insegna lui vuitton il negozio sito in via monte napoleone e dice che ci entreranno per parlare con un tizio che ha da raccontargli delle rivelazioni scottanti cioè che cagato voglio dire andiamo a vedere cosa succede quindi grande panoramica di tutti i negozi extra lusso tra cui lui vuitton dolce gabbana prada e proprio davanti all'entrata di prada c'è lei in piedi con un piumino bordeaux la borsetta a forma di orologio di alice nel paese delle meraviglie pantaloni della tuta adidas felpa fucsia di allocchitti e non ci crederete mai entra da prada una brevissima panoramica di quelle che sono le iconiche borsette a marchio prada e poi si prende l'ascensore interno e si va al piano superiore dove dennis ne approfitta per provare delle scarpe sono bianche con una stampa del tricolore poste sul lato esterno ecco ora nel frattempo che dennis capisce se ha scelto il numero giusto se il 33 o il 34 panoramica di sandali louis vuitton plotoni di decolleté per ogni occasione scarpe da ginnastica che costano quanto aprire un'intera palestra ma poi le avrà comprate le scarpe dennis non c'è dato sapere abbandoniamo via monte napoleone per dirigerci verso via della sfiga e beh e direi che mi sembra già più verosimile e credibile come opzione in omaggio c'è un'inquadratura di davide col suo bel giubbotto dell'adidas e i capelli che gli sono cresciuti così tanto che sembra abbia un colbacco sulla testa ha però noto solo adesso che davide ha un sacchetto con il logo louis vuitton pare sia stato un acquisto fatto da chiara per chiara e quindi ci troviamo in via della sfiga e sondiamo un po a quelli che sono i pareri chiedendo a dennis se si sta divertendo o meno lui risponde di sì io invece no per niente ed inquadriamo il sacchetto degli acquisti effettuati da dennis un paio di scarpe e una maglietta by dolce e gabbana che chiara ritiene un ottimo acquisto da scafata influencer qual è dal suo benestare davide li precede di poco e praticamente gli cammina davanti insomma e noto solo ora che ha dei pantaloni della tuda col cavallo molto ma molto basso tipo che gli arriva alle ginocchia e in queste condizioni chiede pure parola per dire che sua moglie acquista da primark ma essendo una donna che lavora ogni tanto si toglie pure qualche sfizio e compra da louis vuitton e ne ha tutto il diritto non è che uno va in via monte napoleone deve per forza far vedere perché come fanno la spesa da eurospin da tigros vanno pure in via monte napoleone ora onestamente detto tra noi io questo discorso non l'ho capito non ci trovo un senso logico ed ecco che gli viene in soccorso chiara che cerca di dare un senso al tutto dicendo che lei non è una persona che ama ostentare e tantomeno si sente in diritto di poter dare lezioni di vita agli altri su come gestire i propri soldi su come effettuare gli acquisti perché tipo uno può risparmiare per un anno intero e poi togliersi qualche sfizio e davide aggiunge anche andare in vacanza dove si vuole e io continuo a non capire il senso di questo discorso cioè voi avete capito ma perché si stanno a giustificare del fatto che hanno fatto shopping addirittura arrivano a far notare che sono entrati da louis vuitton vestiti con la tuta di primark lui e lei con la felpa di allocchitti cosa importante ci tengono a precisare che loro restano comunque delle persone semplici che noi dobbiamo rilassarci e attenerci solamente a guardare quelli che sono i loro sfavillanti vlog cioè ma per davvero questo ma saranno le conseguenze del volo che ha fatto sugli scaffali e chi può dirlo resistete siamo quasi addirittura d'arrivo perché perché il vlog ora continua da casa il giorno dopo al risveglio in attesa che arriva dennis ci annuncia che a mezzanotte ci sarà una festa a sorpresa oddio ma a sorpresa di che se la sta annunciando comunque questa festa sarà in occasione del suo compleanno la sorpresa consiste nel fatto che saranno dennis e davide a preparare il tutto lei resterà chiusa in camera a prepararsi a farsi bella e loro addobberanno la sala ammazza ammazza però poi quando tutto sarà pronto la chiameranno oddio io ripongo poche speranze nelle doti organizzative di davide speriamo che sia dennis a capo dei lavori perché se no e quindi amori miei qui si prospetta un mega party tanta felicità per l'arrivo di questo amico barra fratello è già un pizzico di malinconia in vista della sua partenza che sarà martedì ma per adesso bando alle tristezze e apriamo le porte all'allegria tuffandoci in questo affollato party a no questo party questo party a sorpresa di cui ci sarà ampiamente raccontato in tantissimi vlog e su più canali quindi stay tuned e il vlog di chiara finisce e di riflesso finisce anche il mio a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto nel frattempo un bacio a tutti da gossi Grazie 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 Grazie